Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che secondo me è stupenda. Questa è la seconda dell'Equador. In versione fan, la maglia un po' più comoda pensata per i tifosi. La maglia da calcio away della Coppa del Mondo Marathon Ecuador 2022 è principalmente Blue Navy, con un motivo geometrico azzurro sul davanti. Il girocollo è Blue Navy, con alcune rifiniture bianche sul davanti, mentre i polsini delle maniche sono in parte bianchi e in parte Blue Navy, con la bandiera Equadoregna. I loghi sul petto sono bianchi, inclusa una riproduzione ricolorata dello stemma dell'Equador sul petto a sinistra. I pantaloncini e i calzettoni bianchi completano la maglia da trasferta della Coppa del Mondo Marathon Ecuador 2022. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed è solo una delle soluzioni di Marathon per la lotta contro l'inquillamento causato da rifiuti plastici. Cosa vi avevo detto? Stupenda, vero? Nella mia classifica questa va in cima, prende 5 stelle, molto bello questo motivo all over, molto bella le rifiniture bianche, una maglia, se vogliamo, di una nazionale non conosciutissima, ma che secondo me nel vostro armadio ci deve essere. Il costo lo vedete qui sopra? In descrizione qua sotto, come al solito, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.